È tutto nelle mani di Francesco Calzona, ora il futuro immediato del Napoli. La decisione giunge a sorpresa, soprattutto per la tempistica. Un ribaltone a poche ore dalla gara più importante dell'anno succede davvero raramente. In una stagione però costellata da errori clamorosi, a questo punto bisogna salvare il salvabile, anche perché non c'è più tanto tempo a disposizione. Andare avanti con Mazzarri, anche con il contributo di Osimen, secondo me non avrebbe portato a risultati concreti. E allora con Calzona potrebbe arrivare finalmente la svolta. L'attuale commissario tecnico della Slovacchia, dal punto di vista tattico, è sicuramente tra i più preparati in circolazione. Sul suo conto però ci sono alcune incognite. Bisognerà verificare come si comporterà nella gestione e con quale autorevolezza della rosa che avrà a disposizione. E bisognerà anche verificare come gestirà lo stress che vive un allenatore che si ritrova con tutti i riflettori puntati su di sé. A guardare i risultati ottenuti con la nazionale cara ad Amsic si può essere però ottimisti. Certo è che arriva in un club dove lui è praticamente di casa e nello stesso tempo avrà a disposizione collaboratori fidati che conoscono molto bene anche i calciatori azzurri. Insomma non vorrei sbilanciarmi più di tanto anche perché il calcio non è scienza esatta. Però con questo allenatore, con il terzo allenatore, potrebbero arrivare risultati migliori rispetto alle esperienze negative con Garzia e Mazzarri.